Siamo state rapite Chiara, allora Allora aspetta, 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 si sta fermando Allora Chiara, noi siamo bloccate Aiuto! Adesso che dovete stare zitti Aiuto! Ah, mamma ti aiuto Chiara, Chiara dove siamo finite? Aiuto! Chiara, no, allora aspetta, non ti agitare No, mi stai facendo male la pace Siamo state rapite Chiara, allora Allora aspetta, 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 si sta fermando Chiara, 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 fermati, fermati Fermati che si sta fermando No, allora, aspetta un secondo Aspetta, Chiara, mamma mia Allora, io direi che questa è una pessima notizia Allora Le fobici si servono Eh, come facciamo? Falle con i denti, Chiara Guarda lì, guarda lì Ma sono per bambini, figurati Ma cosa c'è? Allora, Chiara, però forse sarebbe meglio se tu non toccassi nulla Che cosa stai facendo, Chiara? Per fortuna Non sono da bambini ste forbici, mamma, credo Aspetta, aspetta, forse io No, aspetta Ti aiuto io, mamma Mamma, ti aiuto io Tutti i piedi nella buca È ovvio, mamma Chiara? Chiara? Chiara, sta aprendo qualcuno Chiara, fai vedere Chiara, 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 Chiara Chiara, appena ho finito, ho detto di stare fa... Chiara Ma Chiara, ma non fare la testona Ma non siamo, non sai neanche dove siamo Ma che se ne frega quel signore Chiara Chiara, ma tu hai capito? No, ma io sono continu... Aspetta, mi chiede Io... No, vabbè, allora Ok Questa situazione... Stai ferma perché ne hai già combinato una delle tue E cosa ho fatto? Ci stai facendo beccare Ma ti rendi conto che siamo qui nel nulla? Aiuto, ma sto venendo un attacco di panico Eh, attacco di panico me lo fai venire tu a me, non io a te Via, sta corda brutta Cioè, guarda, pure la maglia è tutta rovinata Io esco di qua Brutto No, allora, aspetta un attimo Ti aiuto, mamma Sì Ok Mi hai fatto capire qua Ah, io? Allora Innanzitutto, Chiara Stai ferma Non ti muovere Dobbiamo capire Adia, sono fatta male Adia Hai fatto a farti male? Allora, Chiara, dobbiamo capire Se sia la cosa più giusta uscire da questo posto oppure no Chiara, no Ma guarda che io non sto ridendo Allora Chiara, ci siamo di nuovo messi in movimento Chiara, Chiara, Chiara Siamo di nuovo in movimento Chiara Chiara, Chiara Allora, ci siamo sedute Stiamo Spostati Sono caduta, sì Ok Allora Mamma mia, ma Mi sa che stiamo andando in qualche posto sterrato Chiara Guarda Sì Allora, aspetta un attimo Chiara Si è fermato Allora, forse è la volta buona Chiara Chiara Non toccare Ma perché ogni po Allora, punto uno qua dentro È un lerciume Non toccare È un lerciume Quindi non si fa questo Non toccare nulla Non toccare nulla Io ho paura Non mi importa Non mi importa Adesso ci proviamo Chiara Lo stai facendo apposta? No Mi stai facendo mettere paura? Sì Ma tu lo sai che adesso chissà papà e Diego dove sono? Magari sono a casa, l'ho chiamata la polizia Chissà che cosa avranno chiamato? Sì Sembrerebbe che se ne sia andato Ok Allora Proviamo intanto ad aprire Ok Allora, piano, piano Come si Ecco Chiara Siamo bloccate dentro Ecco Siamo bloccate dentro Ma c'è il telefono Con te stavo il telefono Io questo la chiamavo C'è il carabinieri Mi facevo Rintracciare tramite il segnale satellitare Allora Dobbiamo trovare un altro modo Allora Chiara Noi siamo bloccate Aiuto Ma cosa aiuto? Che ci Mamma Io ho paura Tu hai paura? E ti sembra il modo giusto Dire aiuto? Ma tu non c'hai paura Mamma Ah io non c'ho paura Io non c'ho paura Aiuto No Aspetta 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 Che arriva di nuovo lui Ecco Aspetta Che dovete stare zitti Aiuto Chiara Chiara No Scusa Scusa Hai visto È stata la pessima idea Abbattere No No Va bene Ci rimettiamo Ci rimettiamo sedute Sì Perché vi siete Sto legati Adesso Mi devo rilegare di nuovo No No Facciamo una cosa Chiara Guarda No Ci mettiamo Qui giù E aspettiamo Che tu arrivi Dove ci vuoi portare Vero Chiara? Sì Sì Mamma È colpa tua No È colpa tua State zitti Se ne è andato State zitti e buoni Dai Se ne è andato Ok Chiara Chiara Io però Secondo me Stiamo facendo Veramente Una di quelle Cavolate Più cavolate Ma tu hai visto Che faccia brutta Che aveva Tutto vestito di nero Ma tu L'hai visto? Mi vuoi rispondere? Sì L'ho visto Ok Quindi tu adesso Che cosa hai intenzione Di fare? Di aprire Allora A quanto pare Ogni volta Chiara deve fare Di testa sua E Ecco Ho detto Non ci posso credere Ragazzi Non ci posso credere Aspetta 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 No ma te l'avevo detto Ce l'ho fatta No aspetta 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 Chiara ma sei in mezzo A un bosco No Chiara Non ci posso credere No aspetta Aspetta Che sta arrivando qualcuno C'è pure un cane C'è C'è un cane Ecco Ecco Allora Chiara Dobbiamo provare A scappare Anche se però È pericoloso Scappare nel bosco Io però Sai che cos'è Che mi stavo domandando Chiara Ma secondo te Perché questo qua Ci ha rapito? Qual è lo scopo Del nostro rapimento? Vabbè Quello lo capiremo Più avanti Chiara aspetta Aspetta Contro Ma se c'è qualcuno Ok Via Scappa 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 Ecco Stiamo scappando Oh mamma mia Dove siamo? Ho una bimba Ho un bimbo No Chiara Quella è spazzatura No Chiara Allora Chiara Ci dobbiamo nascondere Dietro a una di queste piante Chiara Ecco Io non posso mica Allora Ragazzi Forse ce l'abbiamo fatta A scappare Allora Chiara Chiara Vini qua un secondo Secondo me Questo È il nascondiglio Più giusto Ecco Ma guarda tu Che sei veramente Una cetriolina Allora Guarda un po' Allora Pozzo ma Si è un pozzo Ma mamma Che pozzo gigante È un pozzo gigante E guardate un po' Noi ci siamo nascosti Ma lo vedete Quel furgone lì Quello lì Che è nascosto dietro Alle piante Ecco Noi eravamo Chiuse lì dentro Chiara Chiara guarda Che sta arrivando Chiara Dobbiamo scappare Chiara Sì 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 Scappiamo Scappiamo Chiara si sta muovendo Chiara guarda Vieni qua Chiara Chiara è arrabbiatissimo Guarda Oh che cavolo Guarda No 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 Chiara Oh porca miseria Porca miseria Sta arrivando Chiara Chiara devi scappare Chiara 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 Guarda che il furgone Ha capito che non ci siamo dentro Hai capito Chiara Oh mamma Oh mamma Mamma Chiara lì Noi pensavo Oh porca miseria Ragazzi Ragazzi No 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 Chiara vieni qua Mi sta scoppiando il cuore Chiara vieni qua un secondo Chiara vieni qua Guarda Aspetta Ragazzi Ragazzi ci sta rincorrendo Ragazzi Ragazzi Non ce la facciamo più E Chiara sei pure bloccata in mezzo ai rami Aiuto Chiara Sono bloccata Cavolo E tu sei pure bloccata Ragazzi ci dovete aiutare Dovete provare a chiamare La polizia Qualcuno Che ci venga a salvare Siamo in un bosco a nord ovest del bosco 1284 Andiamo a cercare qualcosa Ci vediamo domani con un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.